Più green e senza barriere architettoniche sono gli obiettivi che stanno per essere raggiunti alla scuola Media Matteo Nuti in via Re di Pugliafano. Gli operai sono infatti al lavoro dal mese di agosto per installare un elevatore che finalmente potrà essere utilizzato da 53 ragazzi diversamente abili che frequentano la scuola, oltre alle persone anziane e agli alunni infortunati. Interventi importanti per circa 150 mila euro che hanno riguardato innanzitutto l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un ascensore e una serie di interventi di efficientamento energetico con uno in particolare di cui siamo molto orgogliosi. La Nuti è in assoluto la prima scuola della nostra città nella quale abbiamo realizzato sul tetto dei pannelli fotovoltaici che produrranno l'energia che verrà utilizzata dalla scuola per le proprie attività. Oltre a questi lavori è stato asfaltato il piazzale antistante l'ingresso e sono state climatizzate le stanze del dirigente e del personale amministrativo. Gli interventi in questo anno sono stati diversi, in più scuole ricordiamo le barriere architettoniche del Sant'Arcangelo, oggi quella della Nuti, ma proseguiranno anche nel 2016 altri investimenti di manutenzione. È una bella risposta perché negli anni purtroppo nelle scuole non è stata fatta la giusta manutenzione e noi sappiamo che anche l'edilizia scolastica è fondamentale per poter svolgere al meglio anche tutto il percorso didattico con gli studenti. Siamo molto contenti, è una risposta che diamo alla città, che diamo al mondo della scuola e devo dire anche con grande soddisfazione dei dirigenti scolastici che hanno apprezzato molto il nostro intervento.